Forse non è più intelligente, forse non è più... Ma è quello che Dio vuole per quel momento della Chiesa. Chi era il più intelligente di questi 115? Chi era il più intelligente? Chi era il più intelligente di tutti? Chi era il più intelligente di tutti? Chi era il più intelligente di lui, ma Dio ha scelto quattro.